ai miei capelli dedico tanto tempo anche perché in realtà non sono come li vedete cioè questo è il lavoro frutto di ore e ore e ore di pettine e phone e piastre perché io sono riccia e tendenzialmente anche con i capelli un po' crespi e quindi per forza devo tenerli sempre molto idratati e ho fatto anche un bellissimo trattamento con la cheratina che ha eliminato il crespo